ciao a tutti oggi prepareremo la torta fighi e noci il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 fecola di patate zucchero di canna olio di semi uova sale lievito per dolci vanigliato la scorza di un limone un cucchiaino di pasta di limone confettura di fighi e gheriglie di noci andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 6 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungere l'olio la fecola la farina il lievito il sale e la pasta di limone ed azionare il bimbi per quattro minuti a velocità 5 trasferire in una tortiera rivestita con carta da forno da 26 cm mettere sulla superficie la confettura di fighi mettere i grigli di noci cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 50 minuti circa fare sempre la prova stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuoverla dallo stampo torta figli e noci grazie e alla prossima ricetta torta figli e noci grazie e alla prossima ricetta torta figli e noci grazie a tutti 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 torta figli e noci grazie a tutti